ciao a tutti sono memocotantotto faccio questo video per informarvi che inizieranno una serie di mini review un po' nuove rispetto a quelle principali che faccio su My Little Pony e Questia Girls e Ever After I quando capita ovvero mi chiederete cos'è questo scatolo mi è arrivato qualche giorno fa questa bella scatolina che era denominata Japanese KitKat Christmas Advent Calendar con 24 barrettine ora sono un po' di più perché il venditore mi ha messo qualcuno in più perché aveva sbagliato quindi gratis ovviamente quindi la mia idea era quella di visto che in Giappone dovete sapere che esistono ora non mi ricordo quanti però un sacco di gusti KitKat diversi rispetto a quello originale che conosciamo tutti chi cavolo mi scrive su Facebook e quindi queste piccole mini review consisteranno nell'assaggiare una di queste barrettine e dirvi com'è se è buono se fa schifo se morirò presto cose di questo genere per niente insomma non c'è esattamente uno scopo per il quale lo faccio ma pensavo che fosse una cosa carina a fare queste mini review visto che i gusti giapponesi del KitKat sono molto strani strani ma interessanti almeno a me mi ispirano tantissimo e quindi parveli anche un po' conoscere a voi quindi questa scatola questo Christmas box l'ho preso su ebay è un venditore giapponese e l'ho pagato circa 37 euro e che boh almeno io non lo so quanto vengano singolarmente o comunque le quanto vengano i pacchetti le barrette così in Giappone però non lo so secondo me per 24 barrette con vari gusti si può stare il prezzo o comunque è un mio parere non lo so vi ripeto non ne ho la mia idea e quindi ora avverto perché magari poi eh ma che schifo di qualità babbide video bla 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 molto probabilmente utilizzerò la webcam del mio portatile per fare questi mini video visto che mi inquadrerò mentre mangio che sarà una tragedia perché mi faccio schifo e quindi la qualità sarà non sarà questa della mia macchina vuoto e mi dispiace lo premetto perché però visto che non ho il cavalletto non ho una macchina professionale non c'ho una beata mazza i video i video di queste di questo che dovrò dargli un nome un tag boh testing gioco di skidkat qualcosa del genere userò userò la webcam la webcam del computer quindi la qualità del video non sarà eccezionale però è per farvi cioè non so quanto senso abbia che voi guardate il muro mentre io mangio invece boh vi guardo e ne sarà un bello spettacolo però questa è la mia faccia non ci posso fare nulla quindi a prestissimo con testing tasting giapponese kitkat ciao